Abbiamo fatto una buona partita penso, secondo tempo un po' di fatica, anche fa molto caldo, però abbiamo fatto il secondo gol, l'ultimo minuto, allora penso che è meritato il risultato. Sì, in settimana il mister ha provato di mettere come secondo attaccante, allora mi sono aspettato di giocare a titolare oggi, sono contento, mi sono trovato molto bene con Aldemagne e Ninkovic, sì sì, con la fiducia di mister posso dimostrare che so giocare a calcio e voglio continuare così. È molto importante vincere questa partita a casa, a casa dobbiamo essere forti e abbiamo dimostrato oggi che giocare è difficile.